Ciao Antonio, bentornato tra di noi, ciao, allora ultimo topic della nostra sessione, poi ti lascio per il master di Torino perché sei sempre sul pezzo, tra Milano e Torino, cioè sei sempre operativo, giro, esatto. Allora, oggi parliamo della prima mossa e topic che hai scelto tu, quindi guarda, ti lascio subito la parola. Ok, parliamo della prima mossa per il semplice fatto che in ogni cosa, che sia appunto miglioramento personale, che sia appunto qualsiasi cosa, anche miglioramento sentimentale o addirittura con le ragazze, cosa che riguarda noi in primis, quello che si ha paura di fare o non si ha voglia di fare è questa fatidica prima mossa. Infatti noi ci lasciamo scorrere sotto le mani un sacco di opportunità e le opportunità sono alla base di quello che noi viviamo, perché ogni opportunità ci rende migliori o peggiori in base al tipo di opportunità che si va a cogliere o meno. Quello che bisogna capire è perché e quanto è importante fare la prima mossa. Parliamo appunto nell'ambito sentimentale e nell'ambito di ragazze. Ci capita molto spesso nella quotidianità di fare un viaggio in treno, fare un viaggio in metro, andare al supermercato, andare alle poste, insomma, fare delle commissioni molto comuni. E quindi magari non uscire apposta per conoscere nuove persone. E quello che succede è che, cavolo, ci sediamo a fianco a una ragazza, piuttosto che siamo seduti appunto nel tram, facciamo un esempio tram metro, cosa che molto spesso capita a Torino-Milano e nelle grandi città. Siamo seduti in metro, arriva questa ragazza e si siede di fronte a noi. Ora, questa scena, cioè, a tutti quanti sarà capitata, ti siedi, ti vedi questa ragazza davanti a te e dici, cavolo, proprio una bella ragazza, cioè, cosa devo fare? E sei lì a rimuginare i pensieri, cosa faccio, cosa non faccio, e non sai se parlare, se non parlare. E alla fine, dopo dieci minuti in cui state in silenzio l'uno di fronte all'altro, lei scende e tu ti sei perso l'occasione. Quindi non hai fatto la prima mossa, non hai colto l'opportunità e diciamo che ti sei lasciato scappare quella che poteva essere una grande uscita, piuttosto che un gran risultato. Ora, racconto questo perché mi è successo nel pratico proprio venerdì, sono andato a vaccinarmi e a fianco a me c'era seduta una ragazza che appunto mi incuriosiva, ero interessato, allora ho detto ok, perfetto, siamo qua, vediamo di scambiarci due parole. E dato che c'erano venti minuti di attesa prima di fare questo benedetto vaccino, ho detto ok, perfetto, parliamo. E siamo stati lì venti minuti a parlare, dopodiché appunto, scambiato il numero, ci sei rivisti poi nella saletta d'attesa dopo il vaccino, continuate a parlare e adesso ci stiamo sentendo. Ora, perché ho detto questo? Perché anche io a volte penso, penso prima di agire, ed è giusto pensare prima di agire, ma i pensieri che in quel momento mi stavo facendo erano pensieri debilitanti, che mi stavano portando a non agire. Al che ho detto ok, mi prendo cinque secondi in cui libero la mente e dico ma è più giusto che io lo faccia o che non lo faccia? Cioè questa ragazza quando è che mi capita di rivederla? Mai più. Allora, perché non fare il primo passo, non cogliere la palla al balzo e parlare? Quindi ho visto un'opportunità e ho deciso di coglierla. E questa è una cosa che, quando arrivano delle chiamate al numero verde, quello che succede è che ci raccontano del fatto che appunto hanno visto queste ragazze, che non hanno mai agito, perché? Perché appunto non avevano, non sapevano cosa dire, avevano paura di disturbare e non avevano, tra virgolette, il coraggio di agire nell'immediato. Quindi, quello che succede è che noi, soprattutto ai master, ti spingiamo a capire che questa prima mossa deve essere fatta e va fatta per il tuo bene. Perché? Perché una volta che tu fai questa mossa, inizi a non lasciarti sfuggire sotto le mani delle opportunità che potrebbero essere veramente, veramente interessanti. Quindi, delle opportunità che sei in metro, ce l'hai di fronte, bene, prova a parlare. Trova un contesto, trova una qualsiasi cosa da dire. È facile, ok? Bisogna solamente capire come strutturare questa determinata frase da dire e poi sei a posto. Però tu hai fatto la prima mossa e questa prima mossa vedrai che ti aiuterà. Perché magari non è la prima ragazza con cui parli in metro che ti colpisce, è la seconda, la terza, ma prima o poi un bel risultato arriverà. E tu sarai poi ben contento di aver colto quest'occasione di non averla lasciata fluire via. Assolutamente sì. Sì, poi diciamo che questa è una capacità che non hanno tutti, è quella di iniziare delle conoscenze in situazioni e contesti quotidiani dove la maggior parte delle persone è immersa nella propria routine, nella propria giornata e continuano ad andare avanti con il piotto automatico. Cioè, ragazzi, io come vedo te, le conoscenze si possono fare in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto. Però dipende tutto chiaramente da te, da cosa fai in quella situazione, in quelle circostanze e da come pensi. Ok? Dipende se tu sei disposto a buttarti, ad andare a provare e chiaramente devi avere un minimo di skills, di competenze per saper creare una frase di esordio piuttosto che una conversazione. Però le situazioni si nascondono dietro l'angolo. Ok? Basta saperle vedere e chiaramente poi bisogna anche saperle creare perché di solito non sono le ragazze che ti vengono a bussare alla porta di casa. Ok Antonio, ti lasciamo andare a prendere il treno e in bocca al lupo per il prossimo Master. Un saluto. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.